Buongiorno a tutti, a Mizzano abbiamo Domenico Andreoli, head of marketing di Rubens Truck Italy. Come si tratta alla decisione di presentare questo truck in Mizzano? Buongiorno a tutti, la decisione è stata presa perché questo è il futuro, ma il futuro è oggi. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di portare questo prodotto, che è un prodotto seriale, in Mizzano per avere la possibilità di tutti per toccare e sentire il futuro, ma diciamo che è il prodotto di oggi per le Mercedes-Benz Trucks. Ci sono soluzioni alternativi, perché hai deciso di andare all'elettrica? Abbiamo sicuramente credo che l'unica alternativa valida è la batteria, e noi stiamo lavorando, come tutti conoscono, anche sulle tracce di hydrogene. Quindi abbiamo solo un modo, non abbiamo tanto tempo per ridurre il CO2, e i limiti sono molto forti. Quindi l'elettrica è l'unica alternativa, e davvero il modo per avere un veicolo zero emissioni. In che modo ti presenti questo truck come si presenti le stracce di trasportazione italiana? Abbiamo deciso di cercare di lanciare le stracce di attività, quindi abbiamo deciso di visitare il tracce durante il fai, e in alcune occasioni come questa, per incontrare i stracce, ma anche per incontrare le stracce di trasportazione in loro primi, o in una locazione dedicata, dove organizziamo un test drive e mostriamo il tracce e la tecnologia in tracce. Quali sono, in vostra opinione, i più importanti obiettivi per introdurare nuovi stracce alternativi nel mercato? Sì, il risultato che tutti noi abbiamo in fronte di noi è, prima, il network di trasportazione. Per evitare questo problema abbiamo deciso di non solo sviluppare un tracce, ma anche una società di consultorio che supportano i nostri clienti per trasformare il suo negozio dal suo negozio convenzionale allo stracce di tracce di zero emissioni. Questo è, per sicuramente, un grande obiettivo per tutti, ma siamo davvero avanti con la nostra consultorio e il progresso per farlo succedere. Quindi possiamo dire che una nuova storia è crescita? Sì, esattamente, una nuova storia è nascita! Grazie!